Trapani FC con una nota ufficiale sui canali social. La società FC a capo del presidente Valerio Antonini comunica che la società ganata presenterà ufficialmente domande di ripescaggio per la stagione 23-24 per il prossimo campionato di Lega Pro. In attesa di capire se il Trapani sarà in Serie C, bisognerà attendere le prossime settimane dopo la schedenza ultima per presentare la domanda per il 18 luglio. Nei giorni successivi probabilmente ne sapremo di più sulla richiesta di ripescaggio del Trapani.